Scarpi per centrocampisti Saldi Edition, sicuramente non può mancare un Amoreglio Neo Made in Japan, con la sua tomaia e con la sua struttura, questa qua è un best price da trovare sul sito sportit.com, è una scarpa ultra leggera che mantiene tutti i dettagli fatti made in Japan ed è soprattutto una tomaia in pelle. Per chi apprezza questa tipologia di scarpe è una scarpa veramente fantastica. Puma, stando sempre su Puma, io vedrei bene un discorso di Future, perché a Future comunque è una scarpa molto polivalente, può andar bene per qualsiasi ruolo, è un centrocampista ben strutturato, mi può piacere il discorso della tomaia che monta a Future. Per quanto riguarda Adidas, starei sempre su un discorso Predator, perché comunque scarpa di Predator viene molto utilizzata in tutti i settori del campo e in questo caso abbiamo la versione laceless della versione top o eventualmente, stando sempre sul materiale in pelle, Copa Pure.